Buon fine settimana a tutti da Andrea Cartotto. Un breve videocorso che sarà sicuramente apprezzato anche da noi insegnanti e dai colleghi ad esempio che si occupano di arte, ma è un video che voglio rivolgere ai ragazzi ed anche alle loro famiglie, perché no? Perché rimanendo prudentemente a casa possiamo comunque tramite un collegamento ad internet, un browser, programma di navigazione, un sito di riferimento particolare è lo schermo del nostro computer, ma anche un tablet, ma anche uno smartphone, fare un bellissimo giro dell'Italia, visitare il nostro paese e scoprire bellezze artistiche e culturali. Sito di riferimento, come dicevo prima, artsandculture.google.com, il progetto, ora lo pronuncio in maniera corretta, Google Arts and Culture, che riguarda poi in realtà tutto il mondo, non solo il nostro bellissimo paese. Possibilità di consultazione tramite i pulsanti in alto a destra, oppure, o è la lente, che chiaramente è la classica lente di ricerca, oppure scorrendo la nostra pagina. In questo caso sto utilizzando la rotellina del mio mouse e, come vedete, insomma, i più digitali tra noi riconosceranno il classico omino arancione che è il pulsante Google Street View, che è quel pulsante che tramite le Google Maps normalmente ci porta al lato della strada per poter essere immersi nella realtà. Però in realtà c'è il pulsante inizia il tuo viaggio, facciamo un bel click ed ecco che veniamo portati in una sezione dedicata ai siti culturali italiani, le meraviglie d'Italia. Scorriamo ancora con il nostro tasto sinistro del mouse, più rotellina, dipende se volete naturalmente scorrere in verticale, utilizzare la barra di scorrimento a destra, gli scavi di Pompei. Bene, gli scavi di Pompei allora effettivamente molto interessante, anche un piccolo descrittivo, come possiamo osservare, di ciò che è accaduto. Allora, scavi di Pompei effettivamente ci possono interessare. Bene, andiamo a fare un click. Io in questo caso ho cliccato sulla i per avere informazioni sul luogo di mio interesse ed abbiamo una foto che in effetti ce lo racconta. Basilica di San Marco, sto continuando a scorrere, i canali veneziani, guardate quante bellezze, il Pantheon Romano, abbiamo addirittura poi, vediamo un pochettino, ha il Gran Canale di Venezia, il Canaletto, quindi un'opera d'arte, clicchiamo un pochino sul link Meraviglie d'Italia, ci riporta al nostro indice e adesso insomma iniziamo veramente il viaggio e fermiamoci qui sugli scavi di Pompei. Ed eccoci qua. Cliccando sulle frecce, se voi notate, eccole qua le classiche frecce di navigazione delle Google Maps, io in realtà faccio un giretta Pompei. Un click, ancora un click, tasto sinistro premuto e mi faccio un bel giro, guardiamo le pietre e le mura, che tempo c'era al momento della registrazione? Beh direi una bella giornata di sole, scorriamo, scorriamo, ecco qua, insomma vedete che ci possiamo anche guardare intorno, tengo ancora premuto il tasto sinistra, bellissimo anche per gli alunni della scuola primaria, molto interessante per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Allora vediamo un po' se possiamo andare ancora un pochettino avanti qui nel nostro tour di Pompei, allora negli scavi, clicca ancora, clicca ancora, vediamo dove ci porta, clicca ancora, ancora un click, ancora un click e dove siamo finiti questa volta? Oh eccoci qua, guardate ci sono anche alcuni turisti, relativamente al momento in cui naturalmente era stata fatta questa ripresa a 360 gradi, io sto sempre utilizzando il mio tasto sinistro del mouse, insomma camminiamo ed esploriamo, questo per quanto riguarda Pompei, per quanto riguarda altre installazioni artistiche o bellezze artistico-culturali, abbiamo la possibilità ad esempio di cliccare sulla nostra lente, volendo, ricerchiamo o per artista e quindi per autore, oppure per nome della collezione, della struttura museale o altro, andiamo un pochino a vedere, insomma, Firenze, invio sulla tastiera, Firenze città, oppure come collezioni gli uffizi, clicca su Uffizi Galleri, abbiamo la possibilità come vedete di installare anche l'app per sistemi operativi Android e iOS, dunque dispositivi Apple che è sempre app di riferimento di Google Arts and Culture. Allora, addirittura abbiamo la possibilità di vedere le mostre suddivise per autore, vediamo un pochino Cimabue, un clic, la maestà di Santa Trinita Cimabue, una descrizione, in questo caso del Vasari, possibilità di consultazione con le frecce e di osservare particolari in alta definizione con un commento. Ancora clic sulla freccia, vediamo un pochettino, qui raggiungiamo un alto, insomma, tasso di definizione di ingrandimento, io qui sto scorrendo con il tasto sinistro del mouse premuto. Insomma, come vedete, ecco che rimanendo a casa abbiamo comunque la possibilità di fare un bel tour culturale e nulla, poi ci vieta di aprire ad esempio un'altra scheda del nostro browser in questo caso e mediante Google Motore di Ricerca approfondire ciò che abbiamo visto. Una idea anche interessante per proporre magari un esempio di Flipped Classroom e di lezione capovolta. Allora, buon giro turistico digitale con questa risorsa a livello mondiale di Google ed ancora un saluto da Andrea Cartotto. Grazie. Grazie.